Benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui affronteremo l'argomento relativo ai thread in Java. Che cosa sono i thread? Beh, sostanzialmente un thread è un meccanismo che viene utilizzato da un sistema operativo, da un processore, per gestire la concorrenza, ovvero l'esecuzione contemporanea di più flussi di esecuzione. Questi flussi di esecuzione sono per l'appunto chiamati thread. I thread in generale hanno in comune quello che si chiama uno stato, ovvero file, variabili, descrittori, eccetera. Normalmente i thread sono utilizzati per vari scopi. All'interno dei sistemi operativi, normalmente, quando viene avviato un processo, il sistema operativo assegna un thread per l'esecuzione delle istruzioni di ciascun processo. Quando abbiamo operazioni di calcolo parallelo o calcolo scientifico, in cui deve esserci un'elaborazione intensiva di tante informazioni, una possibilità per velocizzare questo calcolo è di fare più calcoli in parallelo, per cui possiamo utilizzare più thread che eseguono calcoli su parti separate dei dati. Quando abbiamo dei sistemi distribuiti, normalmente, l'interazione con un server remoto è un qualcosa che può avvenire in parallelo alle elaborazioni che vengono fatte in locale, ad esempio le interazioni con l'utente. Per cui, di nuovo, possono essere utilizzati dei thread separati per gestire l'interazione col server e l'interazione con l'utente. Interazione con l'utente che è fondamentale all'interno di applicazioni grafiche, dove normalmente c'è un thread che viene dedicato a gestire tutti gli eventi di interazione, quindi i clic sui pulsanti, l'inserimento dei dati da tastiera, eccetera, e eventualmente, in presenza di operazioni più intensive, che richiedono più tempo, è possibile dedicare un thread a queste operazioni senza dover, in questo modo, interrompere l'interazione dell'utente con l'applicazione. A questo punto è bene distinguere due concetti fondamentali. Uno è quello di processo. Un processo, da un punto di vista di sistema operativo, è un'istanza di un'applicazione, un'istanza in esecuzione. Quindi, quando viene lanciata un'applicazione, un sistema operativo associa a un processo, attiva un processo, e gli associa uno spazio di memoria, spesso si tratta di memoria virtuale, il codice, quindi il codice da eseguire per l'applicazione stessa, uno spazio di dati e, eventualmente, delle risorse del sistema operativo, quali ad esempio i file. All'interno di un processo, poi, sono contenuti uno più thread, sicuramente almeno uno, che è quello che viene avviato dal sistema operativo all'inizio per eseguire le operazioni del processo stesso, partendo da quello che normalmente viene chiamato un entry point. L'entry point è, normalmente, la funzione main in C, piuttosto che il metodo main in Java. Quindi, l'altro concetto importante è il thread, ovvero l'unità base a cui il sistema operativo associa delle risorse di esecuzione, risorse di esecuzione che, sostanzialmente, coincidono con del tempo. Quindi, il sistema operativo assegna a ogni thread un certo intervallo di tempo in cui può andare ad eseguire le proprie operazioni. Perché fa questo? Perché, sostanzialmente, molto spesso il numero di thread è superiore alle capacità di esecuzione di una CPU, per cui è necessario andare a suddividere il tempo tra più thread. Quindi, quando ho più thread che possono essere eseguiti, il sistema operativo andrà a scegliere uno o più, in base alle capacità di esecuzione effettiva della CPU, e assegnerà un intervallo di tempo. Terminato l'intervallo di tempo, il sistema operativo andrà a reclamare le risorse, quindi fermerà l'esecuzione del thread e passerà l'esecuzione a un altro thread. Ovviamente, è possibile avere più thread che eseguono contemporaneamente lo stesso frammento di codice. Ovviamente, ogni thread avrà proprie risorse locali, ad esempio, quando io ho due thread che eseguono lo stesso metodo, ogni thread avrà una propria copia delle variabili locali. Quello che viene condiviso sono le variabili globali, ad esempio, se due thread eseguono lo stesso metodo all'interno di un oggetto, gli attributi che entrambi i thread vedranno saranno esattamente gli stessi. La vera e più thread che vengono eseguiti dà sostanzialmente la possibilità di eseguire quello che è il multitasking. Il multitasking che può voler dire due diverse cose. Da un punto di vista dell'utente è la capacità di vedere la nostra applicazione svolgere più task, più compiti contemporaneamente. Per cui io posso andare a editare un file mentre lo sto salvando. Da un punto di vista di sviluppatori, i thread ci permettono di andare a ottenere un multitasking che significa nell'andare a svolgere più compiti contemporaneamente, alcuni magari non direttamente in interazione con l'utente. Quindi il multitasking ci permette di assegnare diverse risorse di esecuzione, quelle che di solito vengono chiamate slice, ai thread. E normalmente, in maniera cosiddetta preemptive, il sistema operativo, quando è terminato il tempo di esecuzione, sostanzialmente ferma un thread e assegna l'esecuzione a un altro thread. È anche possibile che un thread, prima di terminare la sua slice, termini l'esecuzione perché ha finito quello che doveva fare, oppure un thread si può fermare prima della fine della propria slice di tempo perché è in attesa dell'esecuzione di una qualche operazione di input output. Ricordiamoci il concetto di gerarchia della memoria. Quando io accedo a un file su disco, questa operazione è un'operazione molto lunga rispetto alle dimensioni della slice, che normalmente sono di pochi millisecondi. Per cui il thread che richiede un'operazione di input output normalmente viene messo in attesa, si lascia eseguire un altro thread, nel frattempo viene svolta l'operazione di input output col disco che richiederà del tempo, più slice probabilmente, dopodiché quel thread di nuovo avrà l'occasione di andare a elaborare i dati letti dal disco. C'è anche la possibilità di avere thread con livelli di priorità diversi, quindi appena c'è un thread con priorità più alta automaticamente quelli con priorità più bassa vengono fermati in modo da dare la possibilità a questo con la priorità più alta di essere eseguito. Normalmente quando io ho CPU moderne non ho la possibilità di eseguire soltanto un thread per volta, ma più di uno, e quindi effettivamente quello che ottengo è un'esecuzione realmente parallela di più compiti. Ovviamente, come dicevo prima, il numero di thread normalmente è più elevato di quelli che sono i nuclei, i core delle CPU, per cui avere questi slice di tempo abbastanza ridotte sostanzialmente mi dà l'impressione di avere tantissimi thread che vengono eseguiti tutti come se fossero eseguiti in contemporanea. Normalmente un thread consuma delle risorse per mantenere le informazioni sui thread, per poter passare da un thread all'altro, e quindi generalmente quando io ho tanti thread questi consumano delle risorse. Generalmente le risorse richieste da un unico thread sono molto inferiori rispetto alle risorse richieste da un processo intero, per cui in generale è molto più economico in termini di prestazioni andare ad avere un unico processo con tanti thread piuttosto che avere tanti processi separati. Ovviamente ci sono anche problemi legati al fatto che quando ho più thread che operano sugli stessi dati ci possono essere dei conflitti, quindi due thread che cercano di scrivere o di leggere, uno di scrivere e l'altro di leggere le stesse aree di memoria possono dare adito a problemi di conflitti, di cui parleremo poi più avanti. Quindi l'idea è che quando io ho a che fare con i thread ho sostanzialmente più compiti che vengono svolti in parallelo. Un aspetto importante da tenere presente quando abbiamo a che fare con i thread è che normalmente il comportamento di un programma che ha al suo interno più thread non è deterministico, quindi è difficile sapere esattamente che cosa succede. Per cui se l'esecuzione di un programma ci dà un certo risultato non possiamo essere sicuri, a meno che non prendiamo opportune precauzioni, che il programma ci dia sempre lo stesso risultato. Per cui io devo andare a mettere in piedi delle meccanismi di sincronizzazione e delle garanzie che mi permettano di fare in modo che il comportamento sia sempre lo stesso. In generale, quando io vado a programmare con i thread devo ricordarmi che c'è veramente poco di garantito, quindi sostanzialmente l'ordine con cui vengono fatte le cose normalmente non è sempre lo stesso. Quindi se eseguo lo stesso programma più volte con lo stesso input avrò output diversi che dipende dall'ordine con cui vengono eseguiti i thread. Per cui il meccanismo di assegnazione delle slice di tempo ai thread varia di volta in volta. Questo meccanismo di associazione viene di solito fatto da quello che si chiama uno scheduler, ovvero una componente della Java Virtual Machine che decide qual è il prossimo thread da eseguire nel momento in cui è possibile eseguire in un altro e quando andare a fermare un thread e dare possibilità di esecuzione a un altro. Alcune JVM hanno uno scheduler proprio, altre utilizzano quelle del sistema operativo e utilizzano quelli che normalmente vengono chiamati i thread nativi. Quindi quando ho delle CPU moderne che contengono più core normalmente ho un thread in esecuzione per ognuno dei core e quindi sostanzialmente ho più thread che vengono eseguiti tuttavia per quanto riguarda l'ordine con cui vengono scelti e quindi quale sarà il prossimo thread da essere eseguito non c'è nessuna garanzia quindi non posso sapere in anticipo quale thread verrà eseguito per primo e soprattutto non c'è nessun controllo quindi non posso andare a forzare nulla a meno che effettivamente non ne blocchi io esplicitamente un thread e quindi dia la possibilità a un altro di essere eseguito. A questo punto veniamo a vedere come possiamo trattare i thread in Java. In Java esiste una classe che si chiama thread che rappresenta per l'appunto il concetto di thread e che ha un metodo run che è quello che rappresenta l'entry point quindi il punto di inizio dell'esecuzione del thread. I thread possono essere creati come classi che derivano dalla classe thread in cui vado a ridefinire il metodo run oppure posso dare come parametro a un thread un oggetto runnable ovvero un oggetto di una classe che ha un metodo che si chiama run che rappresenta quello che è l'entry point quindi il punto di inizio di esecuzione. Per cui in generale ho queste due possibilità posso andare a creare una classe che stende thread che ridefinisce il metodo run oppure posso utilizzare un oggetto di una classe che implementa runnable con il metodo run a questo punto in un caso creo un thread nell'altro caso creo un thread con l'oggetto runnable che rappresenta quello che verrà eseguito. Una volta che ho creato il thread devo ricordarmi di avviarlo perché il semplice creare un thread non avvia la sua esecuzione per cui devo andare a utilizzare quello che è il metodo start per poter effettivamente dire al sistema operativo di avviare l'esecuzione del thread altrimenti prima il thread si trova in uno stato che si chiama new ed è considerato ancora dormiente. Dopo che chiamo il metodo start ecco a questo punto il thread diventa vivo e può essere eseguito dallo scheduler quindi gli verranno dati frammenti di tempo le slice per poter essere eseguito. Attenzione che il metodo start può essere chiamato una sola volta per thread quindi quando una volta che ho creato il thread questo viene avviato prima o poi terminerà ma non posso riavviarlo devo crearne uno nuovo altrimenti viene lanciata quella che è una runtime exception. Come funzionano i thread? Allora vediamo in questo semplice esempio che cosa abbiamo a disposizione. Allora abbiamo un metodo main che chiama m m che cosa fa? Il metodo m crea un nuovo thread lo avvia con lo start e poi chiama il metodo say hello che è quello qui sotto che sostanzialmente stampa a quindi il nome e hello. Il thread che io vado a creare sostanzialmente è un thread di questa classe mythread il cui metodo run chiama anche lui il metodo say hello lo stesso di prima però gli passa t quindi sostanzialmente il thread principale quello che viene avviato dal sistema operativo all'avvio del processo andrà a chiamare say hello con main mentre invece il nuovo thread che è stato creato ed avviato qua andrà a chiamare say hello passando la stringa t quindi cosa avviene passo passo? Allora all'inizio abbiamo il nostro programma con un thread principale che non viene ancora avviato nel momento in cui viene avviato questo andrà ad eseguire il metodo main il metodo main chiamerà a sua volta l'altro metodo m e quindi qui abbiamo la chiamata del metodo n questo se volete è lo stack di chiamata relativo al thread principale m che cosa fa? sostanzialmente andrà a creare un nuovo thread t questo thread per il momento è fermo non sta eseguendo nulla e quindi non è stato fatto ancora nulla a questo punto il prossimo passo sarà quello di avviare il thread t attenzione perché a questo punto inizia il comportamento che è non necessariamente deterministico perché perché io non so se il thread t una volta avviato eseguirà direttamente run chiamando se hello oppure se invece il thread principale prima che il metodo che il nuovo thread possa effettivamente eseguire qualunque istruzione chiami lui direttamente il metodo say hello una possibile esecuzione è quella in cui io ho il metodo scusate il nuovo thread che esegue il metodo run del proprio oggetto thread e chiama say hello è chiaro che il say hello chiamato dal thread principale o dal thread t possono avere due ordini diversi quindi io avrò in alcune esecuzioni di questo codice main due punti hello nell'altro caso avrò t due punti hello per primo questo dato questo frammento di codice in cui non c'è nessuna sincronizzazione esplicita tra i due thread è incontrollabile ok e non è predecibile vediamo qualche altro piccolo esempio di thread in questo caso io creo una classe counter che stende thread e questa classe ha un metodo run che sostanzialmente fa un ciclo da 0 al valore num e va a stampare name quindi il nome dell'oggetto e il numero per cui se io vado a creare un counter t1 che chiamo Kevin e chiede puntare fino a 10 un counter t2 che chiamo bob e che deve contare fino a 5 facendoti 1 punto start e 2 punto start entrambi i thread faranno un conteggio il primo da 0 a 10 in realtà da 0 a 9 e il secondo da 0 a 4 l'ordine con cui compariranno le stampe dei due thread Kevin e bob ovviamente non è predecibile esattamente come prima altra variante in cui invece di andare a fare una classe che stende thread vado a creare un oggetto counter che implementa runnable sostanzialmente è analogo a prima solo che in questo caso il metodo run che è uguale a prima si trova in una classe che non implementa thread ho due variabili private quindi il numero e l'etichetta da stampare l'unica differenza qui è che quando vado a creare i due thread passo anche un oggetto counter che avrà i due parametri Kevin10 e bob5 quindi esattamente analogo a quello di prima e poi avvio i due thread l'unica differenza rispetto a prima è che in questo caso passo esplicitamente un oggetto che implementa runnable nell'altro caso vado a creare un oggetto che estende thread ovviamente sfruttando runnable che è un'interfaccia funzionale posso andare a scrivere lo stesso codice di prima utilizzando delle lambda per cui posso andare a scrivere new thread int stream range 0 1 map to object i freccia Kevin due punti da i e poi for each system outprint questo fa sostanzialmente la stessa operazione che abbiamo visto prima solo che invece di utilizzare un ciclo for utilizza uno stream di interi i cui elementi stanno in un range da 0 al 1 l'altro l'altro thread fa la stessa cosa solo che va da 0 al numero 2 stampera bob e poi ho t1 e t2 punto start visto che questo codice in realtà è duplicato quello che potrei fare è andare a creare un oggetto runnable tramite una factory un factory method ovvero un metodo che costruisce un oggetto runnable che poi posso utilizzare come oggetto da eseguire all'interno di un thread infatti quando io chiamo questo metodo counting mi restituisce quanto viene creato da questa lambda a counting passo un'etichetta e un numero e questo mi restituirà un oggetto runnable il cui metodo run crea uno stream di interi da 0 a num stampa l'etichetta più il valore e poi fa un for each system out print a questo punto posso chiamare i due thread passando di counting che mi restituisce l'oggetto runnable e l'altro counting e poi fare t1 e t2 punto start di nuovo sostanzialmente lo stesso risultato ricordiamoci che a parte le differenze sintattiche di questi quattro esempi in pratica ho due thread che vengono eseguiti e quando ho più thread che vengono eseguiti non c'è nessuna garanzia sull'ordine di esecuzione sul fatto che un thread una volta che inizia a eseguire termini il suo conteggio o il suo task in generale che ci sia un loop che termina prima che il thread termini in generale l'unica cosa garantita è che un thread inizia quando chiamo il metodo start e che ogni thread finisca sperabilmente perché potrebbe essere restare bloccato oppure il programma potrebbe terminare prima dell'esecuzione del thread molto spesso in java invece di andare a utilizzare queste classi di base quindi thread è l'oggetto che vi permette di andare a creare un thread e avviarlo esplicitamente si utilizzano quelli che sono degli esecutori gli esecutori permettono di gestire più task e sostanzialmente risolvono il problema della creazione di thread quindi non richiedono esplicitamente la creazione di nuovi thread quando devo andare a creare un nuovo task sono in grado di controllare il numero di thread quindi in base al tipo di esecutore io posso avere tanti task che vengono sottomessi ma un numero limitato di thread e questo permette di limitare l'uso delle risorse quando è necessario ridurlo ovviamente ho un accodamento dei task nel caso in cui i task sottomessi siano il numero superiore ai thread che li possono eseguire in un certo istante e ho anche la possibilità di andare a fermare tutti i task in esecuzione quindi questo meccanismo degli esecutori mi permette di sottomettere dei task da eseguire e non preoccuparmi del fatto che devo creare un thread devo avviarlo ed eventualmente devo andare poi a fermare tutti i thread quando voglio fermare tutta l'esecuzione esiste all'interno del package java utile concurrent un'interfaccia che si chiama executor service che ha questi metodi principali un metodo submit a cui posso sottomettere un task quindi normalmente è un oggetto runnable shutdown che sostanzialmente termina il servizio di esecuzione e aspetta ovviamente che i task che ho sottomesso terminino e poi c'è un metodo un po' più brutale di quello che si chiama shutdown now che sostanzialmente termina immediatamente il servizio il servizio di esecuzione e termina cerca anche di terminare i thread attualmente in esecuzione e poi c'è wait termination che sostanzialmente chiamato dopo shutdown aspetta che tutti i thread in esecuzione terminino quindi tutti i task in esecuzione terminino prima di restituire il controllo serve sostanzialmente per poter coordinare un thread principale con un servizio di esecuzione quanti tipi di servizi di esecuzione ci sono? beh ce ne sono tanti questi sono quelli principali qui c'è una classe che si chiama executors con questi metodi statici che sono in grado di andare a generare degli oggetti di tipo executor service uno è questo che si chiama new cached thread pool che sostanzialmente è un servizio di esecuzione che crea tanti thread quanti sono necessari per poter eseguire tutti i task che vengono sottomessi quindi se io sottometto 10 task e quando sottometto l'ultimo il primo non è ancora finito verrà creato un nuovo task un nuovo thread ogni volta c'è un altro tipo di esecutor che è fixed thread pool che sostanzialmente utilizza un numero predefinito di thread per cui se sottometto più task di quelli che sono i thread presenti nel pool i task vengono accodati e appena un thread si libera viene destinato all'esecuzione del nuovo task oppure c'è questo new single thread esecutor che ha un unico thread e quindi ogni volta che sottometto un nuovo task questo resterà accodato finché il thread del nostro esecutore si libera a quel punto verrà passato al nuovo task e eventualmente a quello successivo se ce ne sono più in coda e poi c'è questo che si chiama new work stealing pool che crea un numero di thread quindi analogo al thread pool ma il numero di thread non lo specifico io programmatore ma viene dedotto da quelli che sono il numero di core del processore che attualmente viene eseguito e quindi massimizza la capacità di esecuzione in proporzione a quelle che sono le capacità della CPU su cui viene eseguito e parallelizza al massimo evitando di andare a creare più thread di quelli che fisicamente possono essere eseguiti in parallelo sulla CPU a questo punto si tratta di capire che cos'è un task che viene sottometto a un servizio di esecuzione i task normalmente possono essere di due tipi possono essere degli oggetti di tipo runnable quindi c'è un metodo run oppure possono essere degli oggetti di tipo callable il problema del metodo run è che è un metodo che restituisce void e quindi non è in grado in maniera almeno semplice di andare a costruire un risultato mentre invece la classe callable l'interfaccia callable ha un metodo che si chiama call che restituisce un oggetto di tipo t quindi è un tipo generico a questo punto che cosa succede quando io vado a sottomettere un oggetto di tipo callable il mio servizio di esecuzione mi restituisce quello che è un oggetto di tipo future perché nel momento in cui il metodo submit viene chiamato e restituisce un valore non è detto che il servizio il task sia già eseguito per cui l'oggetto future è quell'oggetto che sarà destinato a contenere il risultato della chiamata call che però inizialmente non sarà presente perché sostanzialmente il metodo call non è ancora terminato per questo motivo esistono due metodi all'interno dell'oggetto future is done che mi permette di andare a verificare se il calcolo è completato e quindi dentro l'oggetto future è stato messo il valore di tipo t creato dal metodo call e il metodo get che invece è quello che mi permette di andare effettivamente a leggere il valore dell'oggetto di tipo t ovviamente se io chiamo il metodo get prima che il calcolo sia completo il metodo get si blocca e quindi mi darà un risultato soltanto una volta che sarà terminata l'esecuzione e quindi l'oggetto di tipo t sarà presente per cui ad esempio io posso andare a creare dei runnable con un oggetto con il metodo counting che abbiamo visto prima nella factory posso creare un oggetto di tipo executor new fixed red pool con due thread e poi posso fare un submit di counting Kevin 10 e submit di counting Bob 5 questo sostanzialmente mi avvia i due thread non appena faccio submit il thread viene creato e avviato e quindi ho il conteggio di prima uno da 0 a 9 e l'altro da 0 a 4 ovviamente io posso avere anche oltre oggetti runnable oggetti tipo callable per cui ad esempio se io ho questo executor service che è di tipo new cache thread pool ovvero un executor che è in grado di carmi tutti i thread necessari e io un oggetto callable che restituisce un valore long che si chiama life universe everything che è un oggetto che ha questo metodo callable che sostanzialmente aspetta un certo numero di milioni di anni e poi restituisce 42 quando io chiamo il mio executor service deep thought e faccio un submit di questo oggetto callable life universe everything questo mi restituisce un oggetto future l'oggetto future inizialmente non avrà nulla finché non finisce questo slip di un certo periodo di tempo e quindi quando vado a chiamare answer.get questa chiamata si blocca a un certo punto finito questa attesa il mio metodo call restituirà il valore e quindi get verrà sbloccato e andrò a mettere il risultato all'interno di questo oggetto di answer e quindi potrò stamparlo finalmente quando io ho più thread da eseguire è importante ricordarsi che quando questi thread agiscono sulle stesse variabili è possibile che esistano dei conflitti quindi è necessario fare un'operazione che normalmente si chiama un'operazione di sincronizzazione